Siamo qui con Marco del collettivo Politecnico che ci racconterà un po' dell'occupazione che sta avvenendo in questo momento alla sede di design. Ci spieghi un po' i motivi dell'occupazione? Sì, allora questa sede è essenzialmente entrata in funzione da tre anni. È stata creata per dei motivi speculativi, insomma, su un territorio che era utilizzato dalla Fiat e che per vari flussi di denaro, che comunque non riguardano assolutamente gli interessi degli studenti, è stata posizionata qua in un posto assolutamente sfornito di servizi, infatti arriva un solo autobus, non ci sono bar, non c'è assolutamente nulla che potrebbe essere utile a degli studenti per mangiare, comunque anche nei posti di socialità. Proprio dalla socialità anche, diciamo, c'è questa necessità perché comunque la sede, oltre ad essere in una posizione assolutamente sconveniente, è anche mal progettata, appunto non è stata assolutamente posta nessuna attenzione su questo, quindi questa sede non ci offre degli spazi dove noi possiamo creare socialità, dove possiamo mangiare insieme, dove possiamo discutere insieme, ma ci sono soltanto delle aule dove si può fare lezioni frontali, oppure un bar microscopico dei prezzi elevatissimi, oppure delle aule studio nelle quali uno comunque non può discutere, ma può stare soltanto a studiare in silenzio senza disturbare gli altri giustamente. Ovviamente in inverno, quando comincia a fare freddo, diventa un problema utilizzare gli spazi esterni. Quindi noi sentivamo molto, da molto tempo, la condenata alla sede, questa necessità. Abbiamo deciso adesso di intervenire, visto che in passato altre soluzioni non hanno funzionato, anche chiedere a professori, eccetera, non è mai stato utile, abbiamo deciso di risolvercela a modo nostro e prenderci uno spazio che è un'aula che non veniva assolutamente utilizzata, rimaneva sempre vuota e noi abbiamo deciso che quest'aula doveva diventare il nostro luogo di socialità, il nostro luogo doveva portare avanti i progetti, come quello con il quale abbiamo lanciato l'aula, ovvero l'autocostruzione di una stampante 3D, che è una tecnologia che oggi dovrebbe essere presente in qualsiasi facoltà del nostro genere, mentre il Politecnico, nonostante si vanti di essere particolarmente all'avanguardia, ne era spervisto. Quali sono le prospettive, le prossime mosse? Beh, sicuramente domani organizzeremo un'assemblea di gestione e cercheremo di coinvolgere altri compagni dell'università che magari sono, ai quali magari è sfuggito l'evento di oggi, eccetera, e partendo da questo sicuramente cercheremo di organizzare degli eventi, porteremo avanti questo progetto della stampante 3D, porteremo avanti anche un progetto di formazione dell'aula, insomma, di farla come serve a noi, da noi, visto che appunto nessun altro è stato in grado di darci delle risposte concrete. E quindi appunto sicuramente sarà, proveremo a costruire un qualcosa, una comunità all'interno di questo posto sperduto e qualcosa che possa essere utile, insomma. Ecco, ci dici un po' come studiare in questa sede, cosa significa, insomma, stare in questi corsi di design, dentro la fabbrica Mirafiori, cosa rappresenta in termini anche, in qualche modo, dei saperi che vengono discussi qui dentro e quali sono anche le joint venture, come dire, che ci sono tra il grande capitale e l'università. Sì, studiare qui dentro vuol dire trovarsi di fronte a, comunque, dei professori, delle persone competenti disponibili, ma purtroppo anche trovarsi di fronte a delle persone assolutamente non in grado di ascoltare, di portare avanti dei progetti come quelli che portiamo avanti qua, delle persone, diciamo, molto piene del loro ego. E spesso, appunto, come dici tu, studiare qua dentro vuol dire trovarsi davanti a degli accordi che vengono presi tra aziende e il Politecnico, dove quello che noi, diciamo, ci guadagniamo è la possibilità di fare un progetto per l'azienda reale. Ma in realtà questa azienda guadagna molto di più perché a un prezzo ridotto si ritrova con, ad esempio, una ventina di progetti su quello che aveva intenzione, invece che uno solo, molto più pagato da uno studio e che, nonostante siamo studenti, spesso in questi progetti ci sono molti spunti, molte concretezze valide. E quindi, insomma, appunto, ci si ritrova un po' forse in un discount della progettazione che a molte persone può tornare comodo. E, come è capitato anche l'anno scorso, addirittura queste aziende spesso ci permettono di inserire i nostri progetti nel nostro curriculum, facendoci firmare, appunto, delle liberatorie dove loro prendono la proprietà di questi progetti. Comunque, sono contenti di farci notare che potremmo inserire i nostri curriculum. Insomma, è una cosa molto... siamo molto felici di questo. Dopo averci passato mesi sopra, poterlo almeno mettere nel curriculum. Grazie mille, a presto, seguiremo agli sviluppi. Grazie a te.